ok divertiamoci con la luna e usiamo la legge del quadrato inverso per renderla facile da comprendere avete camminato ancora al buio con una torcia e avete scoperto che se tenete la torcia vicino ai piedi il terreno appare abbastanza luminoso ma non appena illumini con la torcia una distanza maggiore la quantità di luce che si ottiene è decisamente inferiore questa è una semplice illuminazione da studio per darvi un'idea e questo è uno schema se osserviamo lo schema a due piedi ovvero al doppio della distanza si perde il 75 per cento dell'intensità della luminosità e se ci spostiamo a dieci piedi si perde il 99 per cento della luminosità quindi la luce diminuisce abbastanza rapidamente qui abbiamo la luna piena e guardate quanto è luminosa mi trovo tra i cespugli e non c'è nessun'altra luce in questa zona che può brillare solo il chiaro di luna dovrei usare le candele ma quello che voglio provare a fare in questo video è usare l'esposimetro bene qui abbiamo 0,02 ho cercato e ho trovato lo stesso numero che corrisponde a quello della società meteorologica quindi impostiamo nuovamente la nostra scala e qui metteremo 0,02 perché questa è la luce della luna sulla terra e poi metteremo la nostra luna esattamente qui ma non conosciamo la luminosità della luna quindi dovremo impostare una sorta di linea di base per raffigurarla però conosciamo la presunta distanza dalla luna che è di circa 1,2 miliardi di piedi e un diametro che è poco più di 2000 miglia quindi andiamo ad impostare la nostra linea di base in modo da avere una luce veramente intensa fino ad ottenere 0,02 quindi dovremmo avvicinarci mi sposto ancora un po' fino ad ottenere 0,02 e adesso andiamo a vedere a quanti piedi siamo dalla lampada uso un metro a nastro è abbastanza buio qui fuori vediamo se riesco a leggere 167 e mezzo c'è ancora qualcosina per arrivare a 168 comunque la nostra lampada è a 168 piedi distanza ed emette 0,02 lumen proprio come la luna giusto e adesso divertiamoci con la legge del quadrato inverso e vediamo se funziona adesso avviciniamoci alla nostra fonte di luce qui metto due pezzi di legno a terra si possono scegliere le distanze che si preferiscono in questo caso prendo solo un numero e poi lo divido a metà poi li divideremo per due quindi lo dividiamo per due poi lo eleviamo al quadrato quindi 2 per 2 fa 4 quindi andremo a vedere questi due numeri poi li divideremo per due poi lo eleveremo al quadrato quindi 2 per 2 fa 4 4 volte qualunque sia il numero diamo un'occhiata siamo a 33 piedi e abbiamo ottenuto 2,49 giusto quindi lo moltiplichiamo per 4 e poi ci avviciniamo fino alla metà della distanza dividiamo la distanza per due ovvero a 16 piedi e mezzo immagino che dovrò mostrarvi 16 piedi e mezzo vedete come si allinea il pezzo di legno ok quindi dovrebbe essere circa 10 vediamo quanto fa 9,94 veramente fantastico adesso andiamo a vedere quanto è luminosa la lampada è talmente luminosa che spegne il misuratore andiamo ad avvicinarci piano e diamo un'occhiata come potete vedere abbiamo 36 35 voglio riprovare otteniamo è difficile da vedere 30 29 e poi 31 33 3600 ricordate che queste sono candele che moltiplicando per 10,7 otteniamo i lumen le specifiche di fabbrica di questa lampada sono 36.000 lumen quindi equivalgono a circa 3400 candele come potete vedere è scritto proprio qui usiamo le specifiche di fabbrica di 36.000 lumen spostiamoci di nuovo qui a 168 piedi a 0,02 lumen ora cosa succede se aggiungiamo un'altra lampada raddoppieremo la luce quindi dobbiamo farla al quadrato quindi abbiamo 2 per 2 fa 4 ora 4 per 0,02 diventa 0,08 vediamo cosa si ottiene bene abbiamo aggiunto un'altra luce vediamo cosa abbiamo ottenuto 0,07 abbastanza vicino non male dovrebbe essere 0,08 e cosa succede se mettiamo tre luci laggiù ne aggiungeremo altre due quindi andiamo a triplicare la potenza dobbiamo levarla al quadrato quindi 3 per 3 fa 9 9 per 0,02 è 0,18 quindi dovremmo ottenere 0,18 ci sono tre luci laggiù e adesso vediamo cosa abbiamo ottenuto 0,18 giusto esatto quindi ovviamente la legge del quadrato all'inverso funziona torniamo al nostro schema e questa volta utilizzeremo 36.000 lumen ma prima dobbiamo dividere la distanza per 168 piedi e poi la eleveremo al quadrato la luna si trova a 238.000 miglia di distanza quindi moltiplicandola per 5.280 otteniamo 1,2 miliardi di piedi che divideremo per 168 piedi otteniamo così 7,4 milioni ora dobbiamo levarla al quadrato quindi la moltiplicheremo per se stesso 7,4,8,0,0,0,0,0,0 55 quadrilioni e adesso moltiplichiamo per il lumen 36.000 lumen quindi la luna è 2 milioni di quadrilioni o meglio quintilioni di lumen ora sono diventato il sordo distruttore di Monti la luna è 2 quintilioni di lumen ma vediamola in un altro modo prendiamo la superficie della luna e la trasformiamo in piedi quadrati prima inseriamo il nostro numero nel super grande calcolatore prima di perderlo quindi il modo per raffigurare la superficie di una sfera è molto più semplice di quanto pensassi comunque è 4 per pi greco per il raggio al quadrato ora calcoliamo la superficie della luna in piedi quadrati questo è il raggio che è di 1078 miglia che moltiplicheremo per 5280 e questi saranno i piedi quindi ora dobbiamo levarli per il raggio al quadrato 5691840 questo è il raggio al quadrato che adesso moltiplicheremo per 4 e poi lo moltiplicheremo per pi greco 31415 questa è la nostra superficie totale della luna nella metratura in piedi quadrati si tratta dell'intera luna quindi ora dobbiamo dividere la metà perché possiamo vedere solo metà della luna diviso 2 questo è il nostro numero questa è la metratura in piedi quadrati di mezza luna copiamo e torniamo al nostro grande calcolatore quello che abbiamo nella parte superiore è il numero dei lumen che dovrebbe avere la luna ora lo divideremo per i piedi quadrati di metà luna che si trova qui clicchiamo sul pulsante e abbiamo 9895 quasi 10.000 quasi 10.000 lumen per piede quadrato è una luminosità incredibile voglio mostrarvi quanto è luminosa torniamo alla nostra preparazione con le tre luci quelle tre lampade hanno 100.000 lumen quindi mettiamo altri 10 box attorno ad esse il che è facile raffigurare perché la porta dietro al garage è 10x12 quindi 10x10 fa 100 piedi quadrati quindi ogni piede quadrato sono 10.000 lumen sulla luna quindi 100x10.000 fa un milione quindi ogni 10x10 di quel quadrato dovremmo avere un milione di lumen al suo interno incredibilmente luminosa 5 volte più luminosa di questo e questa è la foto dello sbarco sulla luna presa direttamente dalla NASA disegniamo in modo approssimativo questi quadrati da 10x10 ognuno di questi quadrati dovrebbe avere un milione di lumen questa piccola area dovrebbe avere una luminosità di milioni di lumen lo sbarco sulla luna assomiglia a questo ok Italia wow sono felice di averti scoperto sono l'ingegnere capo della missione Apollo abbiamo fatto i calcoli sulla luna è troppo luminosa se provi ad andare lassù con i tuoi uomini ti brucerai gli occhi da la testa ai piedi e io cerò il vento solare voglio andare un po' oltre questo è il mio modello di luna con un paio di colori diversi bene sistemiamo la nostra luna qui e puntiamo una luce su di essa vedete che c'è un piccolo punto luminoso al centro ora confrontiamola con la vera luna la luna vera è illuminata in modo uniforme anche i bordi sembrano più luminosi rispetto al centro non ha alcun senso rispetto a questo o forse la luna non è sferica forse la luna è piatta o magari è possibile che la luna emetta luce propria dico questo perché si suppone che il sole si rifletta sulla luna e che ritorni sulla terra confrontiamo questi due alla sinistra abbiamo una lampada regolare sulla destra abbiamo la nostra luna simulata con una luce veramente brillante notate il punto luminoso al centro? mentre mi allontano potete vedere che c'è una luce brillante quella a destra potete dire che è solo un oggetto illuminato da un'altra luce pertanto corrisponde alla realtà osservate la luna rispetto alla lampada sì, si assomigliano molto brillano entrambe possiamo dire che quella della luna è una luce vera possiamo vedere che non stiamo guardando una palla sporca e polverosa illuminata dal sole penso che la luna non sia quello che ci hanno raccontato e penso che abbiamo praticamente distrutto lo sbarco sulla luna grazie a tutti